Qui vi presentiamo le 5 migliori guanti da forno. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. E prance guanti da forno BBQ. Non appena indossati, sono specificamente leggeri e traspiranti. Con le loro 5 dita separate promuovono la tenuta e, grazie agli inserti in silicone presenti su tutta la superficie, garantiscono una presa ottimale. Sono costruiti in Kevlar con un morbido interno in cotone e vengono anche oggetto di un'elevata resistenza al calore. I polsini prolungati sono progettati per salvaguardare parzialmente il braccio inferiore. Passando al numero 4. Icoc guanti da forno antiscivolo. Sono coprimani con le dita solitarie e la loro dimensione generosa 28 x 18 cm consente di indossarli facilmente. Supportano una temperatura ottimale di 240 c rosso in ombra. Sono realizzati in superficie in tessuto con inserti in silicone romboidale, che preferiscono una presa affidabile. L'interno è in cotone da banco, comodo e anche traspirante. Vengono lavati nel dispositivo di pulizia. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Guanti da forno. Danibos Calore Qualità Guanti. Queste coperture per maglieria sono realizzate con un WP strato. Quella esterna è schermata con fibre di Kevlar, quella interna è in cotone, per garantire la massima comodità. Forniscono protezione a circa 250 c i loro lunghi polsini consentono di fissare anche una parte dell'avambraccio. La gestione è antiscivolo. Leggeri e anche resistenti. Possono essere lavati nell'attrezzatura di lavaggio. Almost at the top of our list at number 2. Etmate 1 Paio Guanti Gloves e resistenti al calore Griglia 4. La sicurezza ottimale del calore è garantita dallo strato esterno non-mex, con inserti in silicone che garantiscono una tenuta ferma e anche sicura. L'interno è piuttosto realizzato in morbido cotone, progettato per fornire una notevole comodità. Possono essere utilizzati su entrambi i lati, in una funzionalità ottimale e sono orientati con un laccio da scarpe per appenderli. Sono pulibili a macchia. E infine il numero 1 della nostra lista. Silicone Guanti BB Cougri Guanti Denkic Forno Guanti Resistenti al Calore Guanti. Costruiti in silicone, supportano livelli di temperature di circa 220. Ci sono disponibili in una dimensione, 5 dita e sono adatti sia per le donne che per le mani maschili. Offrono una tenuta ottimale, che consente di tenere gli articoli fortemente senza il rischio che scivoli no. Possono essere puliti con detergente per pasti e possono essere puliti nella lavastovì per maggiori informazioni. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.